I pericoli non esistono nel mondo invisibile? Punto di domanda e questa è la domanda di oggi. E qui è Luca Luna che ti parla dall'altra parte del video per gli amici. Mago Merlino, per me è un privilegio diffondere ciò che scopro viaggiando nel mondo visibile, qui e là, tra l'allero, tra l'allà, ma soprattutto nel mondo invisibile, riportando quelli che sono esperienze, vibrazioni, frequenze, vissute di vita vissuta reale. Perché nessuno ne parla, sono molte poche le persone che hanno esperienza in questo settore. E quindi in qualità di sciamano sento che è giusto condividere questa esperienza e portarla alla luce del mondo. E oggi grazie a queste tecnologie moderne, i social media, i video, eccetera, abbiamo questa grande opportunità, internet ha dato questa grande opportunità. Ora ti faccio un'altra domanda. Se tu vieni in stazione centrale a Milano le 11 di sera, mezzanotte di sera, l'una di notte, ci sono dei pericoli secondo te? Se non lo sai ti rispondo io per esperienza personale, perché quando ero sbarbatello ho lavorato come guardia per una società che aveva gli uffici proprio in stazione centrale. Io facevo il turno notturno, è il migliore, il turno notturno. E mi ricordo un giorno che un collega aveva avuto la brillante idea di infilarsi in un gruppo di spacciatori che erano proprio lì, un bel gruppo di spacciatori, quelli proprio con la faccia da cattivi. E infatti gli volevano fare la festa. Il sottoscritto, come sempre, è entrato nel gruppo e il difensore dei deboli, delle cause perse, il salvatore delle anime indifese, sono entrato e ho aiutato questo amico a uscire indenne da quella situazione veramente pericolosa. Esistono dei pericoli nel mondo visibile? Certo, infatti le persone emettono gli antifurti, tutte queste robe qua. Perché li mettono? Perché ci sono dei pericoli. Se vieni in Centro America, c'è il coprifuoco una certa ora, ci sono alcune città, c'è Tegussigalpa, dopo le 6 di sera c'è il coprifuoco, non puoi uscire, tante città del Centro America c'è il coprifuoco. Mi ricordo una volta siamo atterrati in un'isola, ci hanno detto in Centro America, ci hanno detto no no ma è tutto tranquillo, appena siamo arrivati avevano sparato a uno. Eravamo a Bogotà, ci hanno puntato la pistola in fronte. Ero a Milano, avevo un locale a Milano e mi sono entrati dei tossici con la siringa. Ero a New York e sono stato aggredito da uno che era impazzito e che mi voleva rapinare. Tante esperienze. Quando avevo il locale a Milano mi ricordo che un malvivente aveva cercato di rapinare il negozio a me a fianco, un caro amico, un anziano signore. E ho il rincorso questo malvivente per riprendere la refurtiva e riportarla al mio amico. Un po' la mia natura andare ad aiutare le persone che sono in difficoltà, sia che siano nel mondo visibile o nel mondo invisibile. È una caratteristica, ora che ci penso, che mi appartiene da sempre. Quindi occorre imparare a muoversi in maniera intelligente nel mondo visibile, evitare di infilarsi nei pasticci. E la stessa accortezza serve ed è opportuno averla nel mondo visibile. Se vai in montagna e ci sono dei pericoli, beh certo, ecco perché ti devi affidare a guide esperte. Se vuoi andare sul Acatanango, se vuoi andare a scalare qualche montagna, Acatanango, Acatanango, beh mi sei ingarbugliata la lingua. Vabbè, te lo ti ricordo, sei una bella montagna, l'Everest, le Alpi, se vuoi andare sul K2, se vuoi andare sul Monte Rosa, sul Cervino, devi farti aiutare da una guida esperta. Quindi ci sono dei pericoli anche in montagna e in ogni situazione ci sono situazioni di bene e di male. Sempre, sempre ci sono delle situazioni di bene e di male. E questo che cosa significa? Che smettiamo di vivere? No, occorre essere allerta, occorre essere aware, occorre essere consapevoli, sempre più consapevoli. Come si dice in Sud America? PILA! FABALALECCH! Si dice a Reggio Emilia, FABALALECCH! No, dov'è FABALALECCH? L'è a Milan, FABALALECCH! In Galles, in Galles diciamo FABALALECCH! Quindi devi stare all'occhio. Ecco perché è importante fare in modo che l'ambiente sia limpiato, si faccia una limpia energetica, è importante proteggersi, è importante schermarsi, è importante schermare il luogo, è importante chiamare a raccolta le presenze di energie protettrici, è importante fare una serie di pratiche, di rituali che sono utili per proteggerti, per schermarti e per avere alle spalle delle presenze energetiche forti di protezione. Perché? Perché nel mondo invisibile, così come in ogni situazione, così in cielo come in terra, come dentro fuori, tutto è identico, tutto identico, ma quando impari a connetterti con il tuo sé, con la tua anima, lì sei nello spazio della quiete, della beatitudine eterna, del nirvana, del risveglio assoluto, ma senza andare nel nirvana sei nel luogo di pace, di sicurezza, di tranquillità. Però occorre imparare a fare queste cose. Con questo è tutto, così è deciso da Luca Luna, sembra di essere qui il giudice. È deciso. Ci vediamo al prossimo video, prossimo audio, prossimo post. Azzalotto.